Scusate ragazzi Per non capire Impossibile capire Comunque raga Facciamo così Vedo che ci stanno dei picchi La chiudo qua ragazzi Vediamo se riusciamo a farla domani Ah no 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 Dai eccoci Dai è che sono ritornato Sono ritornato raga A posto Niente Come non detto Come non detto Pensavo c'era problema di connessione Sei risorto Chiedo scusa se Ho fatto all'arma Sì eccoci Sì 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 Sì. Il prossimo 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 Non mi Il prossimo 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 E' così? E' questo con lancerazzi che spettacolo che nasce fuori Già, un attimo poi E' solo una comparsa del mio copione, signor Kennedy Quindi non ti illudere troppo, la tua scena è già finita Lasciami fu... Pari dal tuo copione di... Beh, allora... Non ci provi tu a scrivere un copione di successo con le tue azioni ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che una volta intrecciato tu devi sparare sul punto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tua faccia è davvero assurda. Grazie a tutti. 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 che altro che sto? piccole pezze al culo delle munizioni ok però un'altra volta basta perchè sono le due e mezza va a far domani eccoci Sei solo una c... Passami il mio copione, signor Kennedy Quindi non ti illudere troppo La tua scena è già finita Lasciami fuori dal tuo copione di merda Beh, allora... Perché non ci prometti? Tu a scrivere un copione di successo con le tue azioni Qu'è? No! Qu'è? Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì.